Buongiorno a tutti, sono arrivata che stava finendo di parlare il sottosegretario Morassut per cui ho sentito probabilmente una metà scarsa del suo interessante intervento, ho raccolto però da tutti gli altri già il sentore di quello che è per noi fondamentale visto che come Confindustria Cisambiente raccogliendo tutto il settore ambiente di Confindustria a livello nazionale e ormai essendo quasi a 400 associati abbiamo dentro questi associati praticamente tutto il panorama dei privati che si occupa di bonifiche del territorio, delle bonifiche industriali, bonifiche portuali e interessantissimo il collega Marco Ravazzolo ho lanciato un tema importante, quello del recupero dei materiali post bonifica che ovviamente si collega anche al recupero dei materiali da differenziata che noi seguiamo in quanto cuore dell'economia circolare Cisambiente si occupa di questo tema dalla sua nascita essendo nata 4 anni fa è nata già con l'economia circolare nei polmoni invece che il Covid che speriamo di tenere ben lontano. Detto questo mi interessa molto questo discorso anche del generale Vadalà di essere vicini e anche precisi e attenti a queste nuove bonifiche che sono tante che devono essere fatte e noi ricordiamo abbiamo anche un protocollo oltre quello di Confindustria con il commissario straordinario un protocollo proprio di Cisambiente per l'operatività nel territorio e spero che oltre a questo si possano anche inserire alcune tematiche riferendomi al collegato ambientale dove noi abbiamo portato piccoli punti all'attenzione del Ministero e della direzione del Ministero ad esempio ne cito uno che rientra in parte nelle bonifiche in parte collaterale diciamo però nel collegato ambientale tra il punto uno avevamo chiesto di recupero delle terre di spazzamento magari manderò a Silvia questo nostro propostina che non doveva essere né un decreto né un regolamento ma poteva essere anche solo un'indicazione che il Ministro portava avanti e adesso comunque l'abbiamo inserito come richiesta nel collegato ambientale per cui seguirà l'Inter che deve seguire di legge. Questo recupero riferendomi al discorso della terra anche che era stato fatto dal sottosegretario ripreso anche da Marco e poi infine niente noi siamo molto contenti di poter contribuire unitamente alle bonifiche a tutto quello che è il mondo energetico derivante da rifiuto visto che abbiamo al nostro interno anche la società Eni, Rewind, il nuovo colosso che ha sostituito solo come nome ma in realtà la vecchia Sindial diciamo così e dunque ci interessiamo moltissimo di quello che farete, fate e se saremo pronti in prima linea ad ottobre convinti che questo periodo stia già passando perché i mantra sono importanti ed è inutile continuare a dire resta casa, noi stiamo a casa ma continuiamo a dire che non vediamo l'ora di fare appunto Remtech in questo caso.